Saludazione, come mi chiede che tieni a me la Mère di Monsignor? Con Maria, soy un portatore delle bandite. Secondo mistero, la visita di Maria con Teresa Vecchia. Architetto, se la madre del mio Signore è bencato, come Maria, siamo portatori del Vangelo. Secondo mistero, la visita di Maria con Teresa Vecchia. Pienso io, come mi chiede la madre del mio Signore? Come Maria, dobbiamo conoscere il Vangelo. Secondo mistero, la visitazione. Why should I be honored with the visitation of the mother of my home? Like Mary, let us also carry the gospel to the world. Secondo mistero, Elisabeth. Elisabeth sagte zu Maria, Wer bin ich, dass du unsere Meister hat? Lassen wir Jesus in uns warten. Lassen wir bidden und wie Maria, De blive boodschap in uns leben mitrafen. Lange ze Vigrich, Elisabeth, thirty- pratica an, Alla parlare a Marie di sua cucina, che era in senso, allora che Marie non è venuta. E allo stesso tempo, Marie si è messa in giù, portando in lei l'enfant Jésus in son senso. L'enfant Jésus qu'elle apportait e qu'elle portait. E se facendo, Marie apparaissait come la première miscolaire di l'Evangile. Tant il è vero che la mission di l'Eglise, la mission dei baptizzati, la mission di chacun d'entre noi, consiste a apporter Jésus. Ma è, noi ne pouvons l'apporter che se ne portano, noi ne pouvons le donner, che si il demeure en noi. Apprenons de la Vierge Marie, dans le mystère de la méditation, a renouvelé, en nous, la dimension missionnaire de notre mater. Apprenons de la Vierge Marie, dans le mystère de l'Eglise. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.